Siamo compatti come centrodestra e quindi credo che a mezzogiorno avremo il Presidente della Camera della Lega. Non pensa sia un nome divisivo quello di Fontana? Un nome? Divisivo. E perché divisivo? Per l'opposizione hanno contestato. Per l'opposizione divisivo? Beh, penso che la più divisiva era Boldrini di Fontana. Crippo, ma come siete passati da Molinari a Fontana? Cioè, piace di più a Fratelli d'Italia il suo collega Fontana? Non c'è un discorso di più, chi piace di meno. Sono le capacità delle persone. Molinari ha fatto il capolupo benissimo, deve continuarlo a fare. Fontana sarà un ottimo Presidente della Camera. Delle categorie dell'opposizione che etichetta una persona in base a che cosa, informazioni che hanno su indiscrezioni giornalistiche, non mi interessa. Fontana ha fatto il maillato e il filo Putin di sette anni fa. Quindi, adesso, attualizzare una cosa che è successa sette anni fa non mi sembra corretto. In Casalega che si è detto di quello che è successo ieri in Senato? Cosa? In Casalega che si è detto di quello che è successo ieri in Senato, i diciassette che hanno votato per la russa da tenista? Speriamo che Forza Italia si ricompatti. È importante che la coalizione sia unita. I cittadini hanno bisogno di un governo serio, di un governo stabile che risolva... La prima cosa da risolvere è il problema delle energie, il problema delle bollette. Non c'è bisogno di litigi, c'è bisogno di unità, di lavoro, di serietà, di compattezza. E se Forza Italia voleste andare da sola alle consultazioni al Quirinale? No, penso che andremo uniti e faremo in modo che andremo tutti insieme. Grazie, ciao!